Si riaccende tra i consumatori la voglia di acquisto a prezzi scontati in concomitanza con il weekend. Dopo l'avvio di sabato scorso prosegue infatti la maratona dei saldi anche tra le vetrine a retine. E' il vice direttore di Confesercenti Valerio Alvisi a fare il punto sull'avvio della stagione dei saldi. Buona la prima giornata della partenza, timidi ma comunque riaccesi gli acquisti che sono proseguiti durante la settimana. La gente compra, aggiunge Alvisi, cercando interessanti percentuali di sconto che sono decisamente accattivanti. I giovani sono quelli che acquistano maggiormente, gli adulti cercano invece il prezzo utile guardando alla qualità e al buon prodotto. Meno sfizi ma acquisti ponderati e questa la psicologia che un po' è cambiata negli anni. Confesercenti è comunque al lavoro per tenere alta l'attenzione attorno ai saldi estivi in modo da non far affievolire l'effetto saldo tra i negozi. L'impegno dell'associazione, spiega il vice direttore, è quello di creare occasioni di incontro tra clienti e commercianti. Le iniziative serali che promuoviamo in tutte le vallate intendono accendere anche il piacere di vivere momenti di svago a passeggio tra le vetrine dei negozi e delle strade commerciali favorendo così gli acquisti. Infine, nell'ottica di contrastare gli acquisti online, ecco il perché, secondo Confesercenti, è bene acquistare nei negozi e approfittare dei saldi. I prezzi all'interno delle vetrine, conclude Valeria Alvisi, sono infatti decisamente vantaggiosi. Il consumatore, infine, può toccare con mano la merce e può provare il capo di abbigliamento.